Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. Apriamo con la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi sono 178 i nuovi casi, ovvero il 4,85% dei test processati. 178 nuovi casi di Covid in Abruzzo su 3668 test, ovvero il 4,85% dei risultati delle ultime 24 ore. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 1 e 92 anni. 89 sono della provincia dell'Aquila, 32 di quella di Chieti, 15 di quella di Pescara e 36 di quella di Teramo, mentre per altri 6 sono in corso verifiche per accertarne la residenza. 86 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 491. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 2160 più 167 rispetto a ieri. Di questi 167 pazienti, più 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 11 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri, 1972 più 148 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. E sull'aumento esponenziale degli ultimi giorni dei positivi in Abruzzo, l'assessorato alla sanità mantiene alta la guardia anche sulla vicenda dei numerosi positivi al Don Orione di Avezzano. Paolo Renzetti. L'assessore aumentano in maniera esponenziale i casi di positivi nella nostra regione, è stata superata quota 200. Qual è il suo pensiero? Insomma, la preoccupazione inizia a serpeggiare fra i cittadini, gli abruzzesi. Sì, abbiamo un notevole aumento di casi positivi, anche se 100 bisogna attribuirli a un'unica struttura, quindi a un unico focolaio. Appena abbiamo evidenziato i focolaio abbiamo messo, come sempre, in attività tutto ciò che riguarda il tracciamento ed è questo che ha portato proprio ad avere questo numero elevato di casi positivi. In questo caso, in modo particolare, si parla di una struttura di residenze per anziani ad Avezzano, quindi abbiamo attivato tutte le procedure per regolamentare, ossia è stato nominato un commissario finalizzato proprio alla gestione, con aumento di medici, di infermieri, con un USCA proprio finalizzato a questo tipo di attività. Poi, proprio nella zona della Marsi, che abbiamo messo in rete, le strutture, i presidi ospedalieri di Pescino e Tagliacozzo, proprio per dare l'assistenza adeguata a tutti i pazienti. E' importante rilevare questo, che anche se c'è questo numero esponenziale, la maggior parte dei casi viene ancora seguita attraverso l'assistenza domiciliare, ossia la sorveglianza sanitaria a casa. Ci sono stati dei ricoveri, ma questi ricoveri sono tutti regolamentati da un punto di vista di tranquillità. Il messaggio che voglio dare io è che assolutamente non c'è mancanza di posti nell'eventualità in cui dovessero aumentare i ricoveri, ma soprattutto c'è una rimodulazione a secondo dei numeri. Il Presidente Marsiglio ha detto che se ci sarà da fare qualche chiusura, qualche lockdown locale, lo si farà. Secondo lei, quando questo potrebbe accadere e se accadrà? Allora, noi parliamo di zone circoscritte, di territori circoscritti. Non parleremo mai di un lockdown di tutta la nostra regione, perché in questo momento l'RT non ci porta a questo. Ci porta però ad avere un'attenzione particolare. Un gruppo di lavoro ha stabilito proprio in base ai numeri quali sono le procedure da attivare nel caso in cui dovessimo rientrare in una zona particolarmente alta attraverso i numeri che andiamo a riscontrare di positivi. Cambiamo argomento. Aveva scritto sono disperato su un foglio e poi aveva rapinato le poste di Rosciano. L'uomo è stato ora preso dai carabinieri. Si tratta di una 71enne senza precedenti. Sono disperato. Queste le parole che un 71enne della provincia di Pescara ha scritto su un foglio. E con quel cartello in una mano e coltello e martello nell'altra, l'anziano ha rapinato l'ufficio postale. E' successo a Rosciano lo scorso 8 ottobre. L'uomo si è recato alle poste, ha pazientemente aspettato il proprio turno e si è recato allo sportello indossando la mascherina. E tirata fuori la lama, si è fatto consegnare i soldi della cassa. Si è poi allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Rosciano e della compagnia di Penne hanno impiegato una settimana per dare un volto a quell'uomo che, spinto dalle difficoltà, ha deciso di andare a rubare. Se tacciate le immagini della videosorveglianza, i militari hanno individuato il rapinatore, un 71enne senza alcun precedente penale. Scattata la perquisizione, in casa dell'anziano i carabinieri hanno trovato gli abiti e gli oggetti usati per la rapina, parte della rifurtiva, e quel foglio su cui il 71enne aveva deciso di manifestare le sue intenzioni. Minacciando in maniera esasperata gli impiegati e ammettendo le sue difficoltà, per mostrarsi senza scrupoli certo, ma anche per volersi quasi giustificare di quel gesto che ora gli costerà caro. La giustizia infatti non ammette pietismi. L'uomo dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di arma bianca. È stata interrotta a causa di un guasto al sistema audiovisivo e aggiornata al prossimo 30 ottobre l'udienza preliminare sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, che era fissata per questa settimana davanti al GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea. L'udienza però per ragioni di sicurezza legate alle normative anti-covid si sarebbe dovuta tenere in collegamento audiovisivo in cinque aule simultaneamente. E a causa di problemi tecnici il collegamento è saltato poco dopo l'appello e le prime schermaglie processuali. Il servizio è di Stefano Recanati. Ancora una delusione per i familiari delle 29 vittime di Rigopiano che per l'ennesima volta escono dall'udienza preliminare a mani vuote. Infatti a causa di un calo della tensione della linea internet che non ha permesso la connessione audio-video tra l'aula principale e le altre messe a disposizione del Tribunale di Pescara per ottemperare alle normative covid-19 si tornerà in aula il 30 ottobre alle ore 9.30. Siamo in udienza ma è come se non ci fosse udienza, sono interruzioni, problemi con la linea quindi aspettiamo solamente ma queste cose dovevano essere già risolte in passato. Posso capire la prima udienza ma stiamo alla terza udienza dopo il coronavirus quindi queste problematiche non ci devono essere. Soprattutto adesso con questo coronavirus è un punto interrogativo che non so fino a quando ce lo porteremo. Sperando che non richiuderà un'altra volta i tribunali e la procura. Prima della sospensione comunque gli avvocati di Ilario Lacchetta, Cristiana Valentini, Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri hanno richiesto l'incidente probatorio sul tenente colonnello Angelozzi. Abbiamo fatto questa riflessione, noi avevamo pendente l'audizione del tenente colonnello Angelozzi ma ora ci troviamo, rispetto al momento in cui l'abbiamo chiesta, ci troviamo nella fase di udienza preliminare. In contraddittorio tra tutte le parti, siccome gli elementi conoscitivi che possono venire fuori da questa audizione sono importanti, abbiamo ritenuto veramente doveroso chiedere che questa cosa avvenga davanti a tutti e che tutti possano partecipare. Ci sembra proprio un omaggio alla verità processuale, quello che abbiamo fatto. Poi il giudice deciderà, si tratta di un'iniziativa credo mai fatta prima. Spero che si possa apprezzare la buona volontà di mettere più materiale conoscitivo possibile a disposizione di tutti, che mi sembra essenziale. L'unico modo per arrivare alla verità è scavare sempre più a fondo in questo processo, non c'è dubbio secondo me. Sempre gli avvocati del sindaco di Farindola hanno fatto sapere al giudice di aver avviato un'attività di investigazione difensiva sulla Dicomac di Rieti, Direzione, Comando e Controllo della Protezione Civile Nazionale. In verità ecco qui io le devo rispondere che ancora non lo sappiamo perché noi abbiamo iniziato l'attività di investigazione difensiva su quel piano ma non l'abbiamo ancora portata a termine. Quindi non appena sarà conclusa saremmo lieti di comunicarvi gli esiti. Ripeto, a volte le indagini hanno una finalità che si può definire solo esplorativa, perché tu non sai con esattezza quello che cerchi, però spesso vengono fuori elementi probatori significativi. Si potrebbe capire di più perché quegli elicotteri quel giorno non sono partiti? Probabilmente sì, probabilmente sì. Si potrebbe capire se qualcosa non ha funzionato nei collegamenti di notizie e quindi staremo a vedere quali sono gli esiti. Intanto l'avvocato Romolo Reboa ha avanzato istanza di sequestro conservativo di un quinto degli stipendi percepiti dall'ex prefetto Provolo. Il funzionario della protezione civile regionale Visca e Belmaggio Sabatino Mauro del servizio Provenzione rischi della protezione civile regionale, rimasti esclusi dal precedente provvedimento di sequestro degli immobili. Paccio in Val di Sangro. I carabinieri di Atessa aprono un'indagine che ieri sera ha portato a Lanciano, dove sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Quattro persone tra i 24 e i 37 anni nel corso di perquisizioni domiciliari sono stati trovati e sequestrati 6 kg di marijuana per un valore di mercato stimato di 10.000 euro. L'operazione aveva l'obiettivo di stroncare l'incremento dello spaccio non solo sulla piazza di Lanciano, ma soprattutto nei comprensori sangrini di Atessa, Archie e Perano. Al momento dell'irruzione in casa, con l'ausilio dell'unità cinofile, alcuni indagati sono stati sorpresi a confezionare dosi e sono state sequestrate anche le attrezzature. Ancora cronaca adesso, carenze igienico-sanitarie e strutturali con l'assenza di un bagno dedicato al professionista, mancanza che può impedire la corretta esecuzione delle pratiche sanitarie. E' quanto hanno accertato i carabinieri del NAS di Pescara nel corso di un'ispezione in uno studio odontoiatrico della Val Vibrata. A causa delle irregolarità e delle carenze, lo studio è stato chiuso. A disporre la chiusura, dopo segnalazione del NAS, è stato il dirigente del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Asla di Teramo. Il valore dell'attività inibita è di mezzo milione di euro circa. E ora la politica. Il presidente dell'Aggiunta regionale, Marco Marsilio, ospite ieri sera della trasmissione Velò, ha smentito le voci che vorrebbero un altro rinvio per la seduta del Consiglio regionale, già rinviata causa tamponi Covid lo scorso martedì. Marsilio ha anche parlato della questione del Napoli Calcio e dell'avvertenza Betafence, rivelando di aver tentato di contattare il titolare Marco De Benedetti, a capo del fondo Carlyle, senza alcun esito. Vediamo il servizio. Volevo chiedere, martedì ci sarà il Consiglio regionale che è stato rinviato proprio sulla delibera sul Napoli e quant'altro? Sì, il Consiglio regionale è stato rinviato per una vicenda Covid che ha colpito un gruppo consigliare e quindi ha consigliato prudenza della necessaria profilassi. In martedì avremo questa ratifica dell'investimento che abbiamo fatto, sul quale, ripeto, qualche stupido polmizza, ma noi con una spesa di un milione e due abbiamo acquistato un anno di pubblicità su vettori importanti, solo i follower delle pagine social del Napoli Calcio sono milioni e milioni, i tifosi del Napoli Calcio sono 80 milioni censiti nel mondo occidentale, neanche completo questo scendimento mondiale. Per parlare soltanto della dozzina di giorni in cui il Napoli è stato a Castel di Sangro abbiamo raccolto una rassegna stampa e video enorme che non avrebbe un prezzo paragonabile, neanche spendendo 10 volte tanto la spesa fatta avremmo fatto conoscere l'Abruzzo e fatto parlare dell'Abruzzo. C'è la prima volta dopo decenni che la nostra regione viene scelta da una squadra prestigiosa e importante tra i top player del campionato nazionale e delle coppe europee, fino a ieri, fino all'anno scorso guardavamo con invidia il Trentino. Domanda flash, risposta flash, perché durante la tappa di Tortoreto in alcune circostanze si è visto anche giustamente qualche striscione salviamo la Betafence, capisco che adesso con il ciclismo ci entra relativamente, però lei sulla vicenda Betafence che cosa pensa? Quale sarà il destino di questi lavoratori? Penso che sia una pessima storia di quel capitalismo finanziario che si nasconde dietro scatole cinesi di multinazionali che non rispondono o tentano di non rispondere a nessuno, che disprezzano la carne viva dei territori e dei lavoratori. Io ho tentato anche più volte di contattare l'amministratore, il referente del Fondo Carline, che è Marco De Benedetti, anche un italiano, e non ho avuto neanche lo straccio di una risposta, credo che sia un comportamento vergognoso. Siamo sui tavoli di trattativa, convocati dai ministeri del lavoro e del sviluppo economico a sostenere le ragioni dei nostri lavoratori e del nostro tessuto industriale, che il governo sappia far valere con forza queste ragioni per difendere il diritto al lavoro. La CGL chiede la stabilizzazione, il riconoscimento professionale dei navigator, la nuova figura introdotta nei centri per l'impiego. Si parla di navigator, dell'importante ruolo che hanno nella nostra regione presso i centri per l'impiego. La CGL chiede il rinnovo del contratto, ma anche una stabilizzazione, un riconoscimento di questo lavoro. Innanzitutto il riconoscimento di questo lavoro, perché sono stati sempre bersaglio di strumentalizzazioni politiche e sociali, visto che sono stati sempre abbinati al reddito di cittadinanza. In realtà sono dei collaboratori, quindi innanzitutto ci tengo a dire che sono dei precari, che aiutano i precari disoccupati, che possono apportare molto alle politiche attive, quindi ai centri per l'impiego, perché li supportano sia nell'opera dell'inserimento lavorativo per i percettori di reddito di cittadinanza, ma anche per tutti coloro che si approcciano ai centri per l'impiego, visto che tengo a ricordare che i centri per l'impiego attualmente sul nostro territorio abruzzese sono in smart working o chiusi al pubblico, invece i navigator sono ancora attivi, tuttora attivi e dall'inizio delle loro attività hanno intercettato 18 mila disoccupati. In più, in questo periodo di pandemia hanno contattato 7 mila percettori di reddito di cittadinanza e intercettato anche 5 mila nuovi posti di lavoro, ai quali sono riusciti un terzo di loro a inserirli in aziende. Quindi la loro figura sta funzionando, sono stati lasciati molto soli e noi speriamo che, anche con un'interlocuzione con la Regione, di dare un futuro occupazionale a questa figura e di inserirli in un'ottica di riforma delle politiche attive, ma anche di potenziamento dei centri per l'impiego. Quanti sono i navigatori nella nostra Regione? 53, li abbiamo quasi tutti iscritti con noi perché si aspettano un lavoro che sia collettivo, che sia regionale, anche perché entreranno a far parte anche di un coordinamento nazionale visto che c'è anche un tavolo nazionale. Andiamo ora a Teramo dove le due associazioni, Arci e WWF, chiedono da tempo al Comune l'utilizzo di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata. L'immobile si trova in città, è chiuso da anni e il codice antimafia prevede infatti che tali beni possano essere messi a disposizione del mondo del volontariato. Tania Bonici-Castelli. L'Arci e il WWF chiedono da tempo al Comune di Teramo l'utilizzo come sede delle rispettive associazioni di volontariato di un appartamento in città, sequestrato alla criminalità organizzata e a disposizione da anni dell'amministrazione comunale. Le due storiche associazioni si appellano alla legge antimafia che prevede proprio che questi beni siano messi a disposizione del mondo del volontariato. Un progetto che sembra però non essere ancora recepito dagli amministratori locali. Questa sede che rappresenta nel patrimonio del Comune di Teramo un passivo che non può essere dato in affitto perché la legge sull'antimafia costringe o meglio indica alle amministrazioni comunali il beni in questo caso di essere dati ad associazioni del terzo settore, abbiamo presentato un progetto sottoponendolo al Comune di Teramo e abbiamo iniziato un iter di incontri con tutta l'amministrazione, compreso il Sindaco, per poter arrivare finalmente ad avere uno spazio che facesse della legalità il suo punto centrale tramite una piccola biblioteca della legalità e potesse ospitare anche, perché nel mentre il terremoto ha portato via anche la sede del WWF Teramo, più di 2 mila volumi del centro studi La Cremigna che sono un patrimonio della città stessa. Abbiamo sottoscritto al Comune di Teramo nella nostra proposta che tutte le spese di gestione di questo bene erano a carico delle associazioni, quindi ad oggi abbiamo uno spazio in questa città che deve rimanere chiuso e non capiamo e ci auguriamo che questa conferenza stampa possa portare, che il giornalismo anche in questa città possa fare quelle domande necessarie all'amministrazione che noi non siamo riusciti ad avere, cioè quelle risposte che oggi ancora mancano sul perché. Scende in campo anche il Vice Presidente nazionale del WWF, Dante Caserta, che lancia un appello al Sindaco di Teramo, ci di almeno una risposta. Qual è l'appello del WWF in questo caso? Sostanzialmente innanzitutto di dare una risposta, perché di fatto dopo due anni stiamo ancora aspettando una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione e dopo di creare le condizioni affinché a Teramo possa continuare a esserci una realtà che c'è da più di 40 anni e che ha svolto un'attività all'interno della nostra città e di tutta la provincia e che possa continuare a fare quelle attività di educazione ambientale, di tutela del territorio, di vigilanza ambientale che sono fondamentali. Lo vogliamo fare insieme all'amministrazione comunale, insieme a tutte le altre associazioni, ci si dia però almeno una risposta. E ora allo sport, parliamo di calcio. Per la terza giornata di Serie B domani il Pescara riceverà alle ore 16 l'Empoli, mancheranno i due centravanti Asensio e Seter, sarà Bosic il centravanti a discapito di Belloni. In difesa pronto all'esordio dal primo minuto Bocchetti al fianco di Drudi, il punto nel servizio di Andrea Costantini. Attacco da inventare per Massimo Oddo alla ripresa del campionato, domani ore 16 allo stadio Adriatico Cornacchia il Pescara riceverà l'Empoli senza Seter, stirato e che nella migliore delle ipotesi tornerà per la trasferta di Lecce di inizio novembre e Asensio che ha una lieve contrattura e sarà preservato per la gara di domani per essere probabilmente pronto nell'infrasettimanale di Venezia. Con Bellanova messo fuori causa dal Covid, davanti a Fiorillo aggiranno Ventola, preferito a Balzano che non ha i 90 minuti e Masciangero sulle fasce, Drudi fresco di rinnovo e Sasa preferito a Scognamiglio al centro. Bussellato e Omeonga aggiranno ai lati dell'ex Valdifiori, sette stagioni e 255 presenze coi toscani. Maestro e Galano alle spalle di Bocic che dovrebbe vincere il ballottaggio con Belloni. Nel ruolo era stato provato anche Capone. Massimo Oddo presenta così il prossimo avversario. La certezza che abbiamo è che l'Empoli è una squadra estremamente forte, una delle migliori del campionato per come è costruita, quindi è una partita sicuramente dura per noi, ma questo vale per ogni qualvolta noi scendiamo in campo. Sono convinto che sarà dura anche per loro. Oddo fa poi chiarezza sul mancato arrivo di Cacciatore. La problematica non era sulla fascia destra, la problematica era avere un secondo centrale di ruolo di piede destro, ma questo in virtù del fatto che io con grande onestà vi dico che Gutt non lo conoscevo e quindi non mi fidavo tutto qui. Poi confermo e ribadisco che ho avuto a che fare in queste settimane, in questi dieci giorni con il ragazzo e alla luce di quello che ho visto preferisco lavorare con un ragazzo come lui che ha sicuramente grandi potenzialità, piuttosto che magari mettere un altro giocatore, un altro ultra trentenne dentro la squadra. Mercato che non ha portato in rosa il terzo attaccante da mettere in gerarchia alle spalle di Asensio e Seter, ma Oddo fa professione di ottimismo. Sicuramente avrebbe fatto come di un'altra punta, però non dimentichiamoci che abbiamo tanti giocatori davanti che possono fare quel ruolo. Io sono contento perché ho sicuramente in questa rosa dei giocatori che magari vanno aspettati un attimino, ma che hanno grandi potenzialità e possono sicuramente migliorarsi. Io in questo momento vi dico la verità, mi sto divertendo perché ho giocatori estremamente disponibili, ma soprattutto ho giocatori che possono crescere. Quindi ci vuole solo un attimo di pazienza, bisogna essere ottimisti, bisogna essere positivi perché soprattutto in questi ultimi anni si vive in un pessimismo leopardiano qui a Pescara e quindi bisogna portare un po' di positività. A dirigere l'incontro sarà Alessandro Prontera di Bologna che ha due direzioni poco fortunate col Pescara nello scorso campionato, la sconfitta 0-3 con il Crotone e il 2-2 in campionato a luglio contro il Perugia con i Biancazzori avanti di due gol e gli Umbri capaci di rimontare con due reti in fuorigioco, clamorosa la prima di Iemmello. Per Prontera sarà invece la prima direzione di gara con l'Empoli. Circa i precedenti tra le due squadre, l'Adriatico, in 17 partite il Pescara si è imposto otto volte, ma l'ultima risale all'agosto 2011, 3-2 con doppietta di immobile, gol di Cascione, 5 le vittorie toscane, l'ultima 0-1 nel 2018, griffata Donnarumma, l'1-1 di fine giugno è stato l'ultimo di quattro pareggi. Mentre nell'Empoli, indisponibile Zurkowski, le novità principali dovrebbero essere As al posto di Ricci e Bairami, alle spalle delle due punte, la Mantia e l'ex Mancuso. Ascoltiamo le impressioni del tecnico dei Toscani Dionisi. Il Pescara viene da un campionato negativo, insomma comunque difficile, con giocatori importanti, avranno voglia di riscatto e Pescara è una squadra forte, questo campionato sarà difficile, almeno che poi la classifica non si delini, ma ci vorrà del tempo per dire chi non potrà ambire a stare in alto, perché veramente tutte le squadre hanno giocatori importanti, tutte le squadre hanno dei valori nei singoli e il Pescara ne fa parte di queste squadre, perché ha giocatori che da soli spostano, sono giocatori come Galano, Memushai, ho fatto i primi due nomi che mi vengono in mente, ma non solo loro, hanno fatto già la differenza l'anno scorso in tante partite, quindi non possiamo che rispettarli, ovviamente non li temiamo perché insomma ce la giochiamo, andiamo a Pescara per giocarcela, per dimostrare chi siamo, per far meglio della partita precedente, perché sappiamo tutti che con il Monza abbiamo fatto una buona partita, ma possiamo fare di più, non sarà facile perché tutte le partite partono dallo 0 a 0 e veramente non c'è nulla di scontato, vuoi perché siamo all'inizio, vuoi per il valore di tutte le squadre. Non credo che la differenza la possa fare un uno contro uno, poi in un episodio sì, però realmente limitare i due trequartisti è cercare di essere corti, stretti, difendere da squadra per poi giocare da squadra. Serie C, domenica alle 17.30 il Teramo ospiterà al Bonolis la Casertana, la società ha provveduto ad abbassare i prezzi dei biglietti che oscillano tra i 15 euro dei distinti laterali ai 35, della tribuna centrale. Due euro in tutti i settori aperti per gli under 14, con il piano approvato dalla regione Abruzzo il Bonolis potrà ospitare fino a 1.345 spettatori e la squadra intanto prepara la partita. Il difensore Tentardini spiega quali sono i motivi di questo buon inizio di stagione. Sicuramente se dobbiamo valutare dall'inizio fino ad adesso è un percorso sempre più in crescita, soprattutto per quanto riguarda i risultati e soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. Il mister è riuscito a dare un grande entusiasmo sin da subito e siamo stati bravi anche noi giocatori a prendere tutto quello che ci ha detto e consolidare le cose che avevamo già, i meccanismi già presenti l'anno scorso e migliorarci sempre di più. Senza alcun dubbio sulla fase difensiva siamo migliorati a vista d'occhio perché ci ha subito detto dei concetti basilari da cui partire e infatti abbiamo lavorato moltissimo il ritiro e via via abbiamo sempre migliorato e migliorato finché adesso siamo arrivati a una buona preparazione a livello difensivo. Sicuramente siamo molto più aggressivi sul recupero della palla senza dubbio perché è stata una delle prime cose che ci ha detto. Inoltre anche dal punto di vista della squadra compatta e solida diamo un'altra impressione sia dentro, noi giocatori dentro il campo e soprattutto anche fuori rivedendoci durante i video si vede proprio che abbiamo una solidità importante. Sicuramente in questo momento le squadre più difficili da affrontare sono quelle che arrivano da magari una serie di risultati negativi, tra virgolette, perché giocano ancora di più per dimostrare il proprio valore, soprattutto nella squadra del calibro della Casertana che comunque è un'ottima squadra. L'unica cosa da non fare è sottovalutarla e arrivare alla partita di domenica con questa superiorità mentale che ci sta diciamo che abbastanza è normale dopo le partite che abbiamo fatto, però bisogna metterla da parte e affrontare partita dopo partita come se si partisse da zero. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, il prossimo aggiornamento è alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, una buona serata. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale!